Aspetta, devo mettere la texture per le... beh, per il signore, la dark aurora. Molto medio. Eh, però queste le... No, lasciamo le final. Eh, dove sono gli NPC? Sono fatti. Eh, allora. Faccio il legno. Ah, hai già preso tu legno. Ciccio, prendi questo anche. Io con il mio non-bridge. Stavo per buttarmi nel vuoto. Porca tra... Oh, ciccio, oh... Pro, non mi... La sensibilità del mouse è una merda. Sti qua, ormai li sdrumiamo. Vai, 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 vai. No, tu hai la mamma veramente puttata. La mamma del Manu? Sì. La mamma del Manu? Oh, oh, oh. Doc, ma anche su... No, prendi il... Bro, arriva, arriva. Bro, arriva. Ah, ma è questo. Pensavo sì. Pensavo sì tu. Bro, il mouse ha una sensibilità di me... Penso che devo ritornare con la 1.16, 17, perché così è impossibile giocare. Impossare, no? Non si può impostare. Eh sì, però è fatta male nella 1.8, la sensibilità è proprio fatta di me... Penso che entrerò in 1.18, dopo. Vai, ho rotto il lato. Ho rotto il lato. Ciccio, arrivo. Anzi, arrivano loro. Ma porca! Eh, ciccio, mi sa che avvio Minecraft 1... No, quello dopo. Oddio, se lagga. Ma lo facciamo a pingare questo server. 100%. MC, puntata. Oddio, sensibilità minchia, se è buona così. Molto meglio. Se cosa imposto? Lo slot numero 2 con la X. Sì? Va bene. Bisogna almeno quando apriamo così. Così e così. Diamantino. Quello diamantino nella cesta normale. Ce ne sono due. Faccio sharpness. Ce l'ho già fatto. E per l'armatura. Armor. Sì. Headbull, dai. Dove ho il ferro? Servirebbe l'oro, sai. Headbull, mi piace. Headbull. La piscina della testa. La testa. Eh, tradotto in italiano è così, no? Sì. La piscina testosa. Come fai a conoscere i termini più inutili dell'inglese? Più? Tipo, i termini più inutili. I termini più inutili li conosci, però quando serve qualcosa di utile poco. Oh, ma senti... Dai, sto scherzando. Ti spiegherò poi perché. Vabbè, mi trovo a andare davanti. Però il mio cane, quando ho visto il cane oggi è tutto un pazzito. Cioè, è andato su di giri e... Si è allungato... Si è allungato il cane, no? Devo cambiare account per poter entrare sui pixel. Sei stato i più bannato? Povero. Beh, capita. Io all'inizio non riuscivo ad entrare sui pixel. Capisco perché. Io cercavo di entrarci dalla Bedrock. Allora io. Dalla Bedrock si può fare, ma è tipo hard. Bro, mi hai salvato la vita. Si è tipo sus la roba. La Bedrock. Io ho giusto. Molto sus, è una roba bellissima, sus. Il problema è che se ci scoprono è denunciabile. Non so se è denunciabile dalle leggi italiane, però anche io. Tipo c'è la gente che ci fa i video e non... Beh, l'Italia vuol dire che non è bannato. Non è denunciabile. Entrare da Bedrock sui pixel. Sarebbe tipo... Bro, hai l'azzurro dietro. Non più. Stupido. Hai tirato una fireball. No, è che ho rotto il ponte e è caduto nel vuoto. Porco. Eh, le farò. No, io non ho detto niente, ragazzi, eh. Porco pollo, cioè. Porco pollo. Eh, sì, io... Eccolo l'azzurro. Ma voi lo volevate un pollo. Io sì. Bro, l'azzurro con la... Tieni, tieni. Arrivo. Aspetta, metto via 5 diamanti e 5 smeraldi. Bro, quanti smeraldi c'hai? Dai, 5. Lo metto nel... Ma io lo metto nel culo. Ma non è neanche in coso, dai, ma... È appena appena in pelle. Che scatta la torre. Vai, due smeraldi e mi faccio armor in dia. Vieni qua. Grigio. Io ti vado incontro, là. No, aspetta, però l'azzurro... L'azzurro ci potrebbe venire. Io vado dal grigio. Ci potrebbe venire. Dentro. La casa è... No, no. Vieni qui, grigio di me... Regi diverse. In Svizzera, capisci? Ho usato inutilmente una Fireball, però vabbè. Arriva l'azzurro. Cioè, ho meno cuore io e questo scappa. Perché è l'azzurro. Non è niente, porco. Porco pollo. Lo puoi dire, tranquillo. Porco chicken. Oh, mazzo... Ah, cinque smeraldi ci aveva. Ecco perché scappava. Che? Vabbè. Eh, il grigio. Oh, no. Oh, no, c'è l'azzurro. Aiutami. No, vieni, vieni. Arrivami. Bro. In caso mi lancia una... Oh, madonna per un cuore. Non fotti. Non fotti. Non fotti. Morto. Quattro... È troppo easy il percote pic. Non l'ho mai finito. È anche più piacevole. Cioè, non lo so. Non so qual è quello dei pixel. Non li faccio mai per conto. Beh, ce ne sono... C'è quello in TNT tag. Quello nella lobby delle bad words. Così. Sì, queste volte. Sus. Il sus pur, quindi. Rodeo, acqua non si era altro. Ce ne ho tre. Tieni. Assuma. Grazie. Ehm, c'è... Gioco un po' alla... Ehm... Skyblock. Sì, poi facciamo ancora... Forse una bad words, che poi ti devo fare la skin. Però se la vinciamo, perfetto. Sì, poi... Sì, poi... Sì, poi... Tieni. Allora, chi rimane? Grey... E... Pink... E... Pink... Vabbè. Ah, qua. Due esmeraldi? Vendo... Esmeraldi... Fli... Sì, poi... Sì, poi... Sì, poi... Sì, poi... Vai, arrivo. Me la diai? Sei. Mi bastano per spada. E... Poi il resto li do a te. Anzi, uno mi servirebbe per fare una pozione, però. Ti aspetto, così... Ci spettiamo. Ah, bene, sì. Tieni. L'hai presi? Sì. Bello, sono al 22% di installazione GTA. Mmm, nice. Come te lo sei reinstallato? Beh, lo so, 500 giga. Avrò pochi giga dopo, però vabbè, dai. Ma 500? Eh, ah, te ne lo sai, mi è morto l'hard disk con Windows 10. Ho improvvisato un SSD. Cioè, GTA ti pesa 500 giga? No, me ne pesa... L'hard disk è... L'hard disk è... L'SSD da 500. Adesso hanno già... Hanno già... Più o meno ho fatto i 100. E... Lui si fa... Lui si fa di... Perché, allora, quando ci sale un sistema operativo, 100 giga spariscono. Non mi chiedi lì perché. È così anche con l'Xbox, per dire. E se guardi le statistiche... Vabbè, mi sono rimasti i 302 giga totali. E... Così me ne rimanerebbero 100 se ce l'ho visto. Ti lascio tre cose nella cesta. Allora, blocchi vicino ai blocchi. Melle d'oro. Saranno ancora otto diamanti e così non fare altro. Non è pace palbattro. Io andrei direttamente a sdrumare gli acqua, eh. Eh... Sicuro. Io ho un'attenzione. Anch'io. Vieni. Certo. Allora, gli acqua... Allora, hanno lana e sotto non lo so. Sotto si fa le cose sus. Le inizie sono. Mi piace. Sto per creparne al vuoto. Porco di... Porco di... Perché non sto zitto? Che appassi? No, dai. C'avevo un casino di roba. Dai. Non so dove sono loro. Ah, ha detto Ano. E che ridere. Una è qua. Oh, c'è. Ho messo la porta di scavo. Bro, bimino. Arrivo, arrivo, arrivo. Non commento. Sei vivo? No. Non tanto. Bro, mi sta in culata. Bro, bimino. Arrivo, arrivo. Troppo tardi. Non ricominciare, non ricominciare. Aspetta, aspetta. Uccidete. Poi provrò a riuscirlo. La porta della cantina. Via, via. Ne ho mangiate una, via. Che cazzo. Stai ardando, c'è su un bambino. Vai, vai, vai. È qua. Sta nella nostra base. Entrambi nella nostra base. Io andrei nella, nella tua, va, ne... Ah, ma non hanno letto bene. Sì, guarda. Eh, sta arrivando... Allora, una è invisibile. Scappa. Allora. Scappa e aspetta che diventa rivisibile di nuovo. Mi scammerò. Se vai nella base dei gialli, sei messo un po' meglio. Allora, ci vado. Lo vedo dietro. L'altro è ancora invisibile. Ah, giusto. Mi ricordo di mettere la shortcut per mutarmi. Mettere il potente. Dov'era che si mettevano? Vai. C'hai uno dei due che viene ad attaccarti. Sta facendo un pond. L'altro sta arrivando. Che culo di me. Ah, è rimasto sopra. C'hai entra... Allora, uno è sopra. L'altro sta arrivando. L'altro è in base. Ce l'hai sopra, sopra, sopra di te, sopra di te. Lui che è altra. Riprendi vita, riprendi vita, riprendi vita. Dove l'ha lasciato? Ce l'hai davanti? E con calma, tanto... Oh. Bru, 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 bru. Vai, che lo sdrumi. Vai, 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 vai. Sium. Hai pixel che non riconosce le parole italiane. Io. Messi gode. Messi gode, sì. Signori. Andiamo a fare la schiena d'Andrea.